Che persone sono? 30. 30 persone. Benissimo. A che ora? E domattina alle 10? Alle 10? Così presto? Beh, è un matrimonio. Beh, vabbè, faccia conto che già è tutto lì, bello e sistemato. Dunque per il prezzo facciamo 50.000 lire. 50.000 lire. Come? 50.000 lire. Cosa? 50.000 lire! 50.000 lire? Ma è esagerato 50.000 lire per un pranzo di 30 persone. Ma lei è barone? Io sì. E allora trova cagare 50.000 lire di questi... Ma sei? Ma sono io quello che ha paura dei tedeschi. Guarda, guarda. Saluto la mano. Hai fatto prendere uno spavento. Sono scherzi che si fanno questi qua. Io sono malato di cuore, lo sai che con uno scherzo simile si può anche morire Zio, ma il tuo cliente Ah già, qui c'era un barone Aiuto, aiuto, soffoco Sotto Guardami fuori, aiuto Presto, presto, momento, momento barone, andiamo subito Occi, danci, questo me ne soffocato Buoni buoni camerati, amico tedeschi Ma no, che tedeschi, non siamo tedeschi E' stato uno scherzo, barone, è stato uno scherzo di questo imbecille Non era un imbecille, lo scherzo poi mica l'ho fatto signore, l'ho fatto d'elle Asbelto, più sbelto E' più sbelto, vado a cento all'ora Vada più forte, mi sembra sempre di avere il colonnello dietro E io la matta, ma ci penso, non mi sembra vero essermi liberato della matta Cucu La matta Guardate che bella sorpresa vi ho preparato E cos'è? Ah, il colonnello Il colonnello Attenuto 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 Sono stati ricoverati questa notte Quando li hanno portati qua, erano svenuti Chi sono? Sono due ufficiali tedeschi C'è stato un incidente automobilistico Abbiamo fatto l'ingestatura unica pelle contro pelle Per facilitare l'immediata ripresa del tessuto epiteliale Ah, bene, bene Sono ancora sotto narcosi? Si, signore Benissimo, li ricontrolleremo Ma dove siamo? Chiudo gli occhietti e provi un po' a indovinare Non vedi il gambone qui? Una gamba ingessata Una, due e tre E dove è la quarta? Ma quanta cosa? La quarta gamba, qui sono tre, una, due e tre Ma cosa ne so io? Io le mie due ce le ho No, guardi, questa è mia, sa No, no, mi dispiace, il gambone è mio No, mi dispiace per me, ma questo è mio No, guardi, si informi, le dico che è mio e mio Ma è mio, guardi, lo sento benissimo, è mio Lo sento anche io, lo sento Guardi che lo muovo, se lo muovo anche io E vai E' il nostro, il nostro gambone Ma come uno in due Ma c'è, ci hanno ingessato insieme Ma non la siamo feriti gravemente? 90 giorni salvo fucilazione Cosa? Sì, quando scopriranno che oltretutto siamo due finti ufficiari tedeschi C'è davvero Adesso vi porterò insieme Ma sa guidare No, però so mettere in moto Eh? E non